Cosa possiamo dire per presentare questa nuova edizione della Tendopoli di San Gabriele? Possiamo dire e dobbiamo dire che c'è bisogno, c'è bisogno della speranza, c'è bisogno che si dia voce ai giovani, come ci ha detto il Santo Padre, perché la tentazione di far tacere i giovani è presente in questa nostra cultura. E quindi la Tendopoli è uno spazio dove si può esprimere la speranza che i giovani hanno nel cuore e nel concreto si può vedere, toccare con mano. Sì, aspettiamo sicuramente i più giovani dello scorso anno, perché dopo il Covid abbiamo avuto dei momenti molto difficili e speriamo sinceramente che crescono i giovani e abbiamo una percezione che ci sia un certo aumento. Perché è importante questo? Perché nel momento che viviamo, storicamente che viviamo, c'è bisogno di concretizzare, di far vedere, di toccare con mano che i giovani hanno voglia di uscire fuori dal chiuso, dalla gabbia, dove un certo sistema li vorrebbe collocare. E a questi giovani cosa si può dire? Abbiate coraggio, abbiate fiducia. Non ci potrà mai essere nulla che vi può schiacciare. Cioè, è vero che stiamo dentro, chiusi dentro i social, serrati dentro i nostri telefonini, però è anche vero che abbiamo un cuore, che nel nostro cuore c'è una speranza, che possiamo e abbiamo le ali per poter volare, per uscire dagli schemi dove obiettivamente si sta bene, ma non è il bene che riempi il cuore. Il programma è sempre molto ricco. Sì, il programma è molto ricco e io vorrei soltanto sottolineare la presenza di Patricello, che è di fatto un testimone della speranza, come pure della dottoressa, la signora Luciana delle Donne, sono due esempi, la quale era un'imprenditrice e si è riciclata, diventando imprenditrice dentro il carcere. Quindi è una figura molto bella. A questa poi si unisce, ci siamo un po' proiettati nel futuro e abbiamo inserito la Tanzi, che è un professore, insegnante, che ci parlerà dell'intelligenza artificiale, per vedere come possiamo di fatto non caderci dentro, ma saperlo usare per una speranza migliore. Questo pellegrinaggio è nato dalla gente, poi l'abbiamo un po' organizzato noi, ma è sempre il popolo di Dio che cammina. Ed è vero, è vero che il popolo di Dio concretizza la speranza, lo fa vedere. Camminare per 30 chilometri, magari con i piedi scalzi, non è esibizionismo. È un dire che c'è qualcuno più grande di noi, che è Dio, verso cui dobbiamo camminare con la gioia.